Buongiorno a tutti, ci troviamo in compagnia del signor Mauro Lamoretti, presidente della strada del prosciutto dei vini dei colli di Parma. Allora, parliamo un attimo dei prodotti di punta della strada dei prosciutti dei vini, lei però mi ha anche parlato dei tartufi. Sì, è corretto. Allora, alcuni dei prodotti sono già nel nostro nome, ed è chiaro che è il prosciutto di Parma D.O.P. e i vini dei colli di Parma Doc. Poi, ovviamente, il parmigiano reggiano, abbiamo anche il salame di felino, ma, come le accennava prima, il tartufo uncinato di fragno è uno dei prodotti principali di cui facciamo la promozione. Parmigiano reggiano dicono che il migliore sia quello con latte di montagna. E per il prosciutto di Parma, cosa ci dice? Qual è la qualità geografica che lo può rendere migliore la corrente o il luogo? Allora, noi pensiamo di essere più corretti quando parliamo di diversità, nel senso che davvero diventa difficile stabilire qual è il migliore prodotto. Sono tutti prodotti di un'ottima qualità e la strada ha come primo obiettivo quello di cercare di far riconoscere al consumatore la qualità del prodotto. Poi, ogni prodotto, a seconda della casa produttrice e della località, della zona di provenienza delle cosce, ci sono mille fattori che incidono, hanno delle qualità differenti e tutte quante apprezzabili, apprezzabili nel momento in cui le tecniche di produzione sono corrette e le materie prime sono di prima qualità. Due parole sul tartufo. Perfetto. Allora, tartufo di Fragno. È in due versioni, quella estiva e quella invece autunnale. La seconda sicuramente presenta qualità organolettiche migliori, di maggior pregio. e adesso, assieme agli amici di Calestano, stiamo portando avanti un programma per renderlo più noto di quanto non lo sia ora. È un tartufo nero di ottima qualità. Benissimo. Allora, noi la ringraziamo e le auguriamo una buona permanenza. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.